Nell'ultimo decennio abbiamo assistito a una crescita esponenziale delle nuove tecnologie e alla conseguente invasione dei dispositivi accessori high-tech, notebook, tablet, smartphone, powerbank e chi più ne ha più ne metta. Per questa ragione anche gli oggetti di uso comune come gli zaini si sono evoluti per ospitare questa moltitudine di prodotti elettronici che usiamo per lavoro o per svago. Né un chiaro esempio il CB1001 prodotto da Inatec, uno zaino che riesce a fondere perfettamente design e praticità. Il CB1001 arriva all'interno di un sacchetto richiudibile che può essere riadoperato per riporre lo zaino quando non utilizzato. Una volta tolto dalla sua confezione possiamo subito notare la presenza di una protezione impermeabile da usare in caso di pioggia, accessorio molto utile per chi ad esempio utilizza lo scooter tutto l'anno. Esaminando attentamente la sua fattura è evidente come ogni minimo dettaglio è stato curato, a partire dal materiale utilizzato per la costruzione e per lo più resistentissimo nylon impermeabile, passando dall'imbottitura fino ad arrivare alla fibra traspirante utilizzata per lo schienale e la parte interna dell'impugnatura e delle bretelle. Il tutto impreziosito da linee moderne ed essenziali, rese tali anche dalle cuciture che sono state opportunamente nascoste. Sulla parte frontale troviamo due tasche con chiusura zip, mentre sui fianchi due mani espandibili utili per accogliere oggetti di prima necessità come una bottiglia o un ombrello. Sul fianco destro è stato installato un ingresso usb per la ricarica dello smartphone che avviene collegando all'interno dello zaino un carica a batterie portatile. Al centro dello schienale è presente una cinghia per l'attacco al trolley, più in basso una tasca nascosta che, data la sua posizione, risulta ottima per riporre il portafogli o i documenti. Infine due grandi cerniere percorrono più della meta dello zaino, rappresentando così un comodo accesso ai comparti principali. Il primo è realizzato per ospitare un notebook con dimensioni massime di 15,6 pollici, un tablet e altri accessori. Il secondo composto da varie tasche per l'alloggiamento di altri documenti ed effetti personali. L'azienda non specifica la capacità in litri dello zaino ma considerata le dimensioni di 47x31x17 cm è particolarmente adatto per l'uso giornaliero o per brevi viaggi. Se rapportiamo il prezzo di circa 36 euro alla qualità della sua fattura possiamo tranquillamente affermare che si tratta di un Best Buy.